Un'intensa settimana di controlli da parte delle forze dell'ordine nell'ambito di una stretta decisa dal questore per fronteggiare i fenomeni di criminalità e le statistiche diramate questa mattina rendono l'idea del capillare lavoro svolto dalla questura di Parma insieme al reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia alla polizia municipale, operazioni finalizzate come si legge alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, cioè furti e rapine, poi spaccio di sostanze stupefacenti e illeciti amministrativi. Già questa mattina la notizia di due importanti operazioni antidroga messe a segno nelle ultime ore. Più in generale la città è sotto controllo 24 ore su 24 attraverso servizi di sorveglianza capillari e le cifre raccontano di 78 pattuglie impiegate sul territorio con un bilancio nella settimana di 170 interventi effettuati, di 119 veicoli fermati e verificati, di 209 persone bloccate e controllate. 18 di queste sono state condotte in questura per più approfonditi accertamenti. Così le persone indagate sono state ben 21 di cui 14 per reati contro il patrimonio, 7 per reati di danneggiamento, resistenza pubblico ufficiale, oltraggio e minacce, atti contrari alla pubblica decenza e ancora ricettazione e uso fraudolento di carte di credito, truffa, porto di oggettiati ad offendere, ingiurie, invasione di terreni o edifici. Al termine degli accertamenti tre le persone arrestate, una per furto aggravato, due per furto aggravato in concorso. Infine due gli esercizi pubblici controllati, tre gli illeciti amministrativi contestati e 13 le contravvenzioni elevate per infrazioni al codice della strada.